Maria rinchiusa in convento e Gonzalo, tentando di farle uscire, si traveste da sacerdote e si introduce di nascosto dove la donna alloggia, smascherato da suorre in carnaquion però viene arrestato, e don Anselmo a intercedere a suo favore per farlo uscire. Donna Francisca intanto ordina che Maria sia obbligata a lavorare, a Emilia viene in seguito riferito che la donna vorrebbe anche appropriarsi del figlio alla ragazza per farne lei stessa datutrice, Celia però lo scopre appena in tempo e informa la povera Maria. Olmo è ancora perseguitato da Terence, trova i suoi passaporti ma i documenti portano nomi diversi, Conrado si sente invidioso di Ledmes e cerca di metterlo nei guai, Annabelle invece vorrebbe tornare a casa e finalmente ci riesce. Maria racconta a Donna Francisca che Fernando ha abusato di lei, la donna, spiazzata dalla notizia, cerca vendetta, solida d'intanto chiede aiuto ad Olmo per chiarire il comportamento di suo marito. L'appuntamento con le nuove puntate del Segreto è fissato dal 14 al 18 settembre 2015 alle 16 e 10 su Canale 5.